Ecco, avete sentito questo Vangelo di oggi? Sì? Lupetti, uno di voi, che cosa avete capito del Vangelo? Gesù ha detto nel Vangelo, guardate gli uccelli del cielo. Non seminano e non miettino, né raccolgono dei granitari, eppure il Padre vostro Celeste li nutri. Voi farete una passeggiata oggi, no? E vedrete gli uccelli, le montagne, e pensate, chi ha creato tutta questa bellezza? Chi ha creato tutte le montagne dove andate? Chi ha creato? Chi? Dio! Allora, Dio ha creato tutte queste belle cose. E così quando voi andate lì sulle montagne, dovete veramente pensare un po' di questo, di dire, Dio, grazie per questa bella montagna che hai creato proprio per me. Grazie! Anche gli uccellini, gli alberi, tutta la giornata. Dio ha creato proprio per voi oggi. Hai capito? Perché Dio ci vuole così tanto, 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 tanto bene. Tante volte noi dimentichiamo così facile quanto Dio ci ama. Non possiamo immaginare quanto Dio ama ognuno di noi. Però, tante volte, ripeto, dimentichiamo questo. Per questo è molto importante, oggi, quando andate sulla montagna, di dire, Dio, Gesù, grazie per aver dato questa bella giornata per me, per noi. Perché tante persone oggi hanno dimenticato questa cosa qua. E allora vivono la loro vita senza questo carico. Questo carico, guarda, io sono un figlio di Dio. Io sono un figlio del re. È importante di ricordare questa cosa qua. Oggi, nel Vangelo, Gesù ha parlato di non preoccupare di questo, che mangeremo, che beremo, tutte queste cose. Gesù ha detto, cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia. E allora, Luperti, che cosa è più importante? Questa vita è corta o l'eternità? Eh? L'eternità, no? Ma sapete, guarda, io vi dico, senza giudicare nessuno, sapete di tanti di noi adulti, a causa che abbiamo, tanti adulti, abbiamo lavorato, abbiamo fatto una famiglia, abbiamo fatto una casa, hanno fatto una o due macchine, e tutte queste cose, hanno faticato tanto per tutte queste cose, hanno sudato, faticato, passato tanto tempo per queste cose, e tanti di noi adulti, lavorando per tutte quelle cose, abbiamo dimenticato che cosa conta di più. Tanti volte, noi adulti, facciamo tanto lavoro e fatica, per fare un bel nido, qui sulla terra, invece di fare un bel nido, in paradiso. Tanti! Tanti! Sapete che voi, Luperti, voi siete meno attaccati alle cose del mondo che gli adulti, perché ancora voi avete poco. Così, io, il mio augurio è che voi, mentre voi crescete, e dopo magari anche avete una famiglia, l'età, il mio augurio per voi è che voi non fate come la grande maggioranza degli adulti, cioè di ricordare che tutte queste cose servono soltanto per arrivare alla nostra casa vera che sta in paradiso. E' facile dimenticare questo. Dopo quando avrete lavoro, tutte queste cose, si fa tutto questo lavoro per questo e questo e questo, c'è tutta questa ansietà, c'è stress, c'è questo e questo e questo. E tanti adulti dimenticano che fra cento anni io sono morto e dove sarò. Ha capito com'è? Così voi dovete ricordare questo. Perché Gesù sta dicendo questo, che proprio questo Vangelo di oggi, che tanti di noi adulti siamo tutti preoccupati di questo e questo e questo e questo e questo. E Gesù dice, non preoccuparci, ma occuparsi. Occuparsi per il regno di Dio. Hai capito un po'? Proprio in questo brano del Vangelo di oggi ha cominciato. Nessuno può servire due padroni perché o odierà l'uno o amerà l'altro oppure si affezionerà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio la ricchezza. E tanti adulti sono finiti per servire la ricchezza e c'è poco spazio nel loro cuore per Dio e perciò hanno poco tempo per pregare. Le maggioranze degli adulti non pregano niente perché sono tutte attaccate a queste cose del mondo. Hai capito com'è? Perché Dio ha creato tutto questo bel mondo, no? Voi vedrete, fate un bel agito oggi, vedrete tutte quelle belle cose. Ma una cosa che bisogna ricordare, come dicevo prima, ringraziare Dio per quello. Cioè, però dobbiamo ricordare di non amare le cose di Dio più che il Dio che ha creato quelle cose. Mi spiego, no? Cioè, Dio ha fatto tutte queste belle cose per ognuno di noi, belle cose. Ma la nostra scelta, la prova della vita è che di lasciare il nostro cuore di essere attaccato a queste cose che sono belle o di essere attaccato al creatore di tutte queste cose. Vi spiego. È una tentazione forte. Così, quando fate questa gita oggi, ringraziamo Dio per tutto. Perché tutte queste cose devono servire per aiutarci di arrivare al paradiso. Perché quella è l'unica cosa che conta. Mentre la maggioranza delle persone si fermano alle cose, sono attaccate alle cose e dimenticano chi ha creato tutte quelle belle cose. E le cose vanno male. Così, ecco, se viviamo così, guarda, le cose andranno molto, molto meglio. E perché anche quando Dio ci dà anche delle consolazioni, no? Dobbiamo innamorarsi non con le consolazioni di Dio, ma il Dio delle consolazioni. E se facciamo così, guarda, il più che, guarda, il più che si pensa a Dio è più che Dio benedice le persone. Guarda, io penso che il scoutismo è un grande dono per i giovani, un grande dono per la Chiesa, un grande dono. Pensate un po', ho sentito una bella cosa l'altro giorno perché io ascolto questo canale cattolico inglese che è molto buono, che il Papa ha dato il premio più alto possibile un anno fa. E l'altro giorno ho ascoltato su questo canale che ha detto che oggi, come voi sapete, tante volte si passa sempre meno tempo insieme come famiglia. Non con i genitori, con i figli insieme, perché vogliono sempre più soldi, lavoro, eccetera, eccetera. Sessanta anni fa, come voi sapete, non c'era neanche la televisione. E così si mangiava pranzo e cena insieme senza la televisione, si parlava di più insieme. E poi dopo pranzo, dopo cena, tante volte, la mamma apre, la mamma apre il album della famiglia, no? Album, che è di fotografia, no? E così la mamma spiega, ecco, guarda la fotografia del tuo nonno, la tua nonna, guarda questa fotografia del battesimo, questo qua, questo, è bello, no? Così si conosce la famiglia, i radici della famiglia e i bambini prendono i valori dai radici della famiglia. Invece, che cosa succede oggi? Oggi, invece di aprire l'album della famiglia, si accende la televisione, si chiacchiera di quelle schifezze nel giornale e così i bambini sono formati con quella cosa lì, di questa cultura terribile oggi, invece delle radici della famiglia. Ecco, la cosa che vorrei dirvi è questo, guarda. Volete, volete aprire l'album della famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria? Volete guardare le fotografie dell'album e vedere quelle belle cose? Guarda, ogni volta che voi pregate il rosario, è come aprire l'album. Quando pregate il rosario, è come di mettersi sulla ginocchia di Maria, la nostra mamma. E la mamma apre l'album della storia di Gesù e con i venti misteri, Maria ci spiega l'album della famiglia di Gesù. E così, è più che pregate il rosario, quello lì prende parte della tua vita, è così, invece di prendere quella robace della televisione per formare la tua testa e cuore, si apre l'album della famiglia di Gesù con i venti misteri e Maria, come mamma, sulla ginocchia di Maria, Maria ci spiega quei venti misteri. E così, la tua vita è formata così e quando voi andate avanti nella vita, voi farete le decisioni secondo quel bel album del rosario invece di quel album terribile della televisione. Mi spiego, così mi raccomando tanto, aprite questo album della vita di Gesù spesso, pregate il rosario spesso, perché è come di guardare la famiglia di Gesù con i venti misteri. E chiedete i vostri capi, chiedete i vostri capi di comprare alle Arte Sacra di San Cristo o le Paoline, le immagini dei venti misteri. Così, quando pregate il rosario, mettete avanti le immagini dei misteri per guardare e per meditare meglio, perché i venti misteri sono riassumere la vita di Gesù. È come di pregare il Vangelo. Così, dite i vostri capi di comprare le immagini del rosario e pregate ogni giorno il rosario e guardate la Madonna e Gesù vi benedite tanto, tanto. Non potete immaginare. Il rosario è molto importante. Sapete che 50 anni fa, Lucia di Fatima ha detto che chi prega il rosario oggi riceve molte più grazie che anni fa, perché oggi il mondo è più difficile. E quando i tre bambini, la vostra età, quando i tre bambini a Fatima ha chiesto a quella bella signora a Fatima il suo nome, lei ha detto, io sono la Madonna del rosario a Fatima. Così, ecco, se volete fare un'esperienza ancora più bella di scaltismo, state vicino a Gesù e la sua mamma, perché i santi, San Luigi di Montfort e altri santi, dicono, se volete arrivare a Gesù più veloce, più diretto e più sicuro, va alla mamma di Gesù, Maria, e Maria ci porta direttamente al suo figlio, Gesù. E la vostra vita sarà più piena, più gioia e più felice, perché Gesù e Maria ci vogliono, ognuno di voi, tanto, tanto, tanto bene. Buona strada. Per tutti noi, tutti cristiani e tutti cattolici, in particolare per tutti i lupetti e tutti i scout, che vivono il loro carisma, questo grande dono da Dio, e di ringraziare Dio per le grandi creazioni che Dio ci ha dato, però di non dimenticare il creatore, di non essere attaccati a queste cose, così non c'è spazio nel nostro cuore per il creatore, che ci vuole tanto bene, ma di ricordare sempre chi ci ha dato a queste belle cose, per innamorarci sempre di più con Lui, di fare più spazio nel nostro cuore per Lui, così possiamo avere la pienezza della vita che soltanto Dio può darci. Preghiamo. Adesso, in questa preghiera, magari pensiamo a Dio Padre, perché questo è il Padre nostro, di pensare a Dio Padre, che ci ha dato tutto questo bel mondo, ha dato questa giornata, ha dato scartismo, ha dato ogni cosa che abbiamo viene da Dio, così di dire questa preghiera con tanta, tanta gratitudine. E poi ci ha dato la cosa più grande di tutto. Ci ha dato adesso, su questo altare, è il corpo, l'anima, sangue e divinità del suo unico figlio Gesù. Sapete che in questa chiesa adesso ci sono milioni e milioni di angeli e santi che adorano Gesù su questo altare, nell'Eucristia. Così per tutte queste belle cose, ringraziamo Dio Padre in questa bella preghiera. Padre nostro.